che figata questa cosa blu che hai costruito no fra cos'è che gli fa? dai dentro della casa no giù vai no cosa aspetta 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 però io ho fame ho anche sete non so come si gioca fra no me lo fa merda devo cagare rega devo cagare ma si può cagare sto gioco? eeeh boh ascolta 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 oggi novità su tutto eeeh il test per i disabili che devo fare insieme ai disabili anche se ahahahah ridi ridi non sto scherzando non sto scherzando mia madre mi fa eeeh ci hanno chiamato allora dobbiamo andare tot giorno e mi dispiace dovrei fare i test insieme ai veri disabili e io ma oh io te l'ho detto da qui si crea il nostro impero sud e fuori certo certo episodio 1 youtube italia buongiorno ragazzi e benvenuti ragazzi e ragazze e benvenuti ragazzi e ragazze e bentornati allora fai il falò fai il falò io prendo da mangiare l'ho fatto la lancia guarda vieni qua vieni qua al pesce il pesce ci penso io dov'è? e no non me lo tira fuori e come si fa? apri pantaloni poi lo tiri fuori eccolo qua ok l'ho preso fin l'ho preso l'ho preso l'ho preso mai fai fai e ma è da ultimare un pesce giallo ok un pesce giallo vado a chiudere la casa sennò mi entrano i zigari ma ammazza ok ban play rugge posso bannarti no 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 non volevo ha bannato rugge l'ho chiccato l'ho chiccato rugge no raga perchè cosa è successo? rugge rugge oh per sbaglio ti giuro non l'ho fatto apposta basta basta ma sta andando a fuoco sto coglione guarda giù c'è un eclissi c'è tipo un eclissi ma c'è qualcosa che non va io la piattaforma in teoria è terminata ma non mi fa salire e sai l'ha distrutta jacobo ma che cazzo? ma ho sentito la roba di quando completi di costruire completi le costruzioni ma non me e se non hai preso la roba con la corda non puoi salire hai distrutto l'unico modo che era per dormire si ma la starbero non si taglia più fra? che albero stai tagliando? uno gigante iiiiiiii 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 vai 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 non tagliare quello dove c'è la casa sull'albero raga se le robe cadono sulle robe si distruggono qua col braccio tutto stirato male no il bastardo il mio tronco lascialo giù non va bene quello no era mio questo no dammela ma non ti serve bravo a te serve quello piccolo quelli piccolini ti serve quello piccolo io non ho il fuoco io ce l'ho il fuoco vieni qua vieni qua vieni qua raga mi sto cagando addosso mi è venuto veramente un attimo è qua raga è qua il fuoco ho visto una roba che non c'è benvenuti nella casa blu no 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 quanto non si foglie sto morendo di freddo vieni qua vieni qua dov'è 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 qui qui cazzo levati dai coglioni dov'è 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 il falò non c'è è sparito no raga ma di che cazzo è ma allora crealo è sceso il falò raga eh ma è si è consumato ed è spumato si è sciolto raga mettete qui i bastoncini vai fate il falò fate il falò veloce non ce li ho i bastoncini vai vai ne mancano le foglie cazzo le foglie vai prende le foglie come si fanno a prendere le foglie oh perchè è buio devi picchia le piante le piante picchia e non... Jacopo picchia le piante no prendi le falò che cazzo ve l'ho fatto no raga moriamo di qua dove sono le piante piccole questo va... no eeeh non le vedo non mancano due forse ce li ho eh aspetta ranna ranna merda a parte che ora non fa più freddo però sto... ho un problema anch'io è di sete pure cazzo qua ok ce li ho ce li ho si 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 accendi accendi raga non ce li ho ok oh no cazzo che pirla raga io vado a prendere il cibo però voi dovete prendere da bere cazzo ma che cosa vuol dire prendi da bere oh posso bere raga ho bevuto aspetta eh mastardo dal laghetto venite qua dove sono io vieni 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 andiamo da ruggire che sa cosa da facere mi sei buggato scusa ok aia però fa male no no ma io ho gli snack raga son pieno di snack ma vaffanculo è il momento di costruire qualcosa raga io sto cercando di uccidere una tartaruga raga mi servono tanti tronchi mi date una mano cosa che cacchio stai facendo ruggio è la casa ma sei un pazzo no sono un geometra si ce l'hai fatta ci avete fermo 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 basta è morta stai fermo ah la tartaruga avete ucciso grandi si fra abbiamo il cuscio abbiamo la testa fra ho la testa della tartaruga la posso usare come trofeo puoi appenderla è inutile ma stai zitto tu sei inutile è un po' si qua ci sono altri tronchi si ma non ci serve la testa della tartaruga ci serve la corazza ma dai ma raga ma è un trofeo ma non me ne frega una minchia no stai zitto voglio trovare il mio figlio nero aiuto gli ac che poi ragazzi dobbiamo trovare l'unico figlio che è eccezio siamo tre papà uguali siamo tutti gay no sono un pirla giù perdonami non volevo farlo cosa? ho distrutto un albero sbagliato vabbè intanto quello è andato non avevamo la corda si ho fatto una palafitta non avevamo la corda e allora è colpa tua abbiamo dormito assieme questa notte vai non devi dire queste cose ecco ho dormito bene sui tuoi piedi no raffa fai scherzo ci sto di merda ma perchè mi hai toccato i miei piedi ma perchè mi innavola ognunque di giusta ma perchè hai toccato i miei piedi poi dopo un po' cioè per me ma sono serio non sto scherzando erano soffici ma cosa sono queste robe? eh sono i miei piedi ah ok e continuo no no sulla casa no 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 oh ti ammazzo spostalo che culo ocio i tronchi ho le mani nere anch'io schifo si 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 morcodile fai il coso per l'acqua è vero è vero oh c'è l'acqua pura non bevetela ops kick o bando scegli tu in dj che venga arrivano hai preso un pesce no non ho preso un bel cazzo joe sediti qua di fianco a me che sto giocando il monco e non si capisce nulla aspetta adesso faccio il falò così do da mangiare al mio oh oh facciamo il falò gigante no no è tipo grande però è una magliatta fighissima io? si tipo c'è un lupo io come sono vai cagare eh olee sono dei ceppi sono personaggi sono personaggi ceppi quando saltano guarda ce l'hai dei bastoncini perchè? perchè la devi fare qua? perchè è un portatronchi è un portatronchi ma fallo qui lì lo puoi spostare no scherzo che cacchio stai facendo? perchè stai beccando? ah aspetta raga tiro un sasso aspetta devo fare da bere devo fare da bere oh jacopo porca tre non l'ho fatto apposta stavo eh si si bastardo figlio di puttana anche per sbaglio fra guarda guarda jaco nooo no 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 aiuto aiuto sono arrivati dove sono? no jaco mi è andato a casa sventra anch'io io mi vado vittrae questo qui è mio vabbè ragazzi f4 no ma è morto? posso curarti come su forte? è morto sono uscito dal gioco tu ru tu tu ru tu tu ru maledizione eh allora ti do una mano fa un culo casa di merda oh non va giù eh eh aia son morto